Condizioni di tempo stabile sulla nostra regione ma anche su gran parte dell'Europa centro-meridionale nei prossimi giorni. Nella giornata di sabato un promontore anticiclonico porterà stabilità e anche correnti nord-orientali più secche nei bassi strati. L'anticiclone poi rimarrà ben saldo anche domenica e i giorni successivi senza particolari cambiamenti. Avremo pertanto una giornata buona sabato con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuve in più nel Tarvisiano al mattino, un po' di borino sulla costa, temperature massime in ripresa con valori intorno ai 14 gradi su pianura e costa quindi ben miti al di sopra della media del periodo. Per quanto riguarda domenica avremo una bella giornata, cielo sereno, ancora qualche nuvola in più al mattino sul Tarvisiano ma poi in dissolvimento, borino, residuo sulla costa, temperature in lieve calo, valori massimi intorno ai 10 gradi durante la notte, qualche grado sotto zero anche in pianura, qualche grado sopra invece sulla costa. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana ci aspettiamo lunedì un cielo sereno, poco nuvoloso, qualche velatura, inversione termica piuttosto consistente nei bassi strati, lo zero termico andrà intorno ai 3.000 metri di quota ma di notte avremo temperature basse a fondo valle e in pianura e più o meno valori simili a domenica durante il giorno. Martedì un po' più umido, probabilmente arriveranno masse d'aria un po' più umide nei bassi strati, ci aspettiamo variabilità, forse anche un cielo nuvoloso su pianura e costa con possibili foschie e anche forse delle nebbie, tempo migliore invece in montagna in quota e condizioni di temperature stabili, condizioni che proseguiranno poi anche nei giorni successivi. Buon fine settimana a tutti.